Educazione ambientale, ricerca scientifica, laboratori di biologia e archeologia, visite guidate, museo del mare, biblioteca del mare, sono alcune delle azioni che la MP, l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, metterà in campo sinergicamente per raggiungere l'obiettivo nel progetto Dipinto Cerrano che mira a definire un prodotto turistico di elevata qualità basato sul miglioramento dell'offerta esistente attraverso la tutela e la riqualificazione degli ambienti naturali. Si tratta di usare una progettualità innovativa che dalle opere di riqualificazione ambientale delle dune, delle pinete e del giardino mediterraneo passa attraverso i servizi e gli strumenti per l'approfondimento della conoscenza della natura. È un progetto, è un band PORFERS a cui abbiamo lavorato da un anno a questa parte, è una progettazione che abbiamo fatto, diciamo, tra virgolette tutti in casa con i nostri collaboratori, soprattutto in collaborazione con l'istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise. La cosa bella che ci piace è che il cofinanziamento previsto dal bando ce lo siamo fatti tutti in casa, nel senso che non abbiamo chiesto soldi ai due comuni, alla provincia e alla regione. È un progetto che mira da una parte al miglioramento delle condizioni ambientali, quindi al miglioramento della tutela ambientale e di tutto quello che è l'ecosistema dell'area marina. Dall'altra parte cerca di dare una migliore fruibilità a chi viene in area marina. Che stato di salute vive l'area marina protetta, anche in vista della bella stagione? Ma direi che lo stato di salute dell'area marina è buono. Certo, niente è perfetto, tutto è perfettibile. Stiamo facendo anche altre iniziative per un monitoraggio delle acque, non solo a mare, quello lo fa già l'Arta, ma anche a terra, quindi sui fossi torrenti e soprattutto sugli scoli, sempre con un protocollo con l'Istituto Sperimentale Zooprofilattico, proprio perché non vogliamo farci cogliere di sorpresa e anzi prevenire per evitare che ci possano essere eventi negativi sulla qualità delle acque.